Sono state depositate le motivazioni della sentenza che il 15 giugno scorso è stata pronunciata al Tribunale di Arezzo dal giudice Ada Grignani e che assolse gli imputati in tutto 14, tra cui Pierluigi Boschi, padre dell'ex ministro Maria Elena. Il filone era quello delle consulenze d'oro nell'ambito dell'inchiesta sul crack di Banca Etruria. Gli imputati erano accusati di aver speso circa 4 milioni di euro affidando consulenze inutili e ripetitive per le quali la banca, che si trovava già in condizioni critiche, aveva sostenuto costi imponenti. Secondo la sentenza di assoluzione, queste sono state operazioni non manifestatamente imprudenti né consumative di una parte notevole del patrimonio della banca. Inoltre, si legge ancora, in nessuna delle deposizioni testimoniali o nei documenti acquisiti, è emerso che l'affidamento delle consulenze contestate abbia aggravato un dissesto in atto. Tra gli assolti, in primo grado, perché il fatto non sussiste, oltre a Pierluigi Boschi, anche Luciano Nataloni, Claudia Bugno, Luigi Nannipieri, Daniele Cabiati, Carlo Catanossi, Emanuele Cuccaro, Alessandro Benocci, Claudia Bonollo, Anna Nocentini-Lapini, Giovanni Grazzini, Alessandro Liberatori, Ilaria Tosti e Claudio Salini.